Quest'anno la raccolta delle ciliegie è stata molto scarsa. Comunque sia, un po' di marmellata l'ho rimediata. Ecco qui la marmellata fatta a casa mia, marmellata paesana. Questa qui è una varietà di ciliegie antiche del mio orto. Guardate, molto scura. Non ha bisogno di nessun trattamento. Buona, ottima. La cosa più bella è avere prodotti paesani. In particolare, tra le tante cose che raccolgo il mio orto, la marmellata. Questa è stata fatta ieri sera. In ogni momento, un po', un cucchiaino di marmellata con le pette biscottate o con un po' di pane. Una bella alimentazione particolare. Colazione alla mattina.